Quello che vi racconto oggi e che mi fa piacere poter raccontare a un numero così vasto di persone perché penso sia utile come bagaglio di conoscenza personale, viene naturalmente da una serie lunga di colloqui con i medici, nulla di quello che dirò mi sono inventato ovviamente e in parte viene anche da situazioni forse risolte nel tempo e che mi hanno fatto capire qual era la strada forse giusta, ma dobbiamo immaginare che stacchiamo completamente la parte medica da quello che dirò oggi, questa sera, l'ansia è generata dallo stress, parola ma è troppo facile, tutti ci parlano di stress, siamo immersi nello stress, ma non tutti sanno che lo stress è generato dalle emozioni e noi viviamo in un mondo in cui le emozioni sono tante, sono state codificate e sono emozioni o positive o negative, ma da quando apriamo gli occhi la mattina e ci alziamo a tutta la giornata e quando ci ricorichiamo la sera noi viviamo immersi in una serie di emozioni positive o negative, queste emozioni caricano di stress la giornata, delle volte molto positivamente e delle altre negativamente e quando ci sono picchi di emozioni molto forti, sapete ormai l'avrete vissuto tutti, ci sono delle paure, ci sono delle emozioni positive, c'è l'amore come c'è la paura del bambino che ha attraversato la strada e la macchina gli ha frenato a 20 cm di distanza, queste alternanze di positività negatività in genere non creano grandi problemi che sono brevi nel tempo e quindi questo stress diciamo che ha dei picchi molto forti, vengono stimolate le surrenali, l'adrenalina gira fortissima nel nostro corpo e si alza il battito, abbiamo la pupilla dilatata, una tensione molto sviluppata e ripeto positiva o negativa con dei picchi. Non sembrano essere un grandissimo problema, sono più un problema le emozioni che portano a uno stress labile e permanente nel tempo. Passate, faccio degli esempi sciocchi, ma voglio usare i termini più semplici possibili, ci alziamo la mattina sapendo di dove andare a lavorare in un ufficio dove davanti nella scrivania, davanti alla nostra c'è una persona che non è che ci stia proprio simpaticissima e passare tutta una giornata, otto ore, avendo una relazione difficile penso che porti a uno stato di stress labile e permanente nel tempo che dura anni e questa è veramente la cosa negativa. Potremmo dire ho in mano un bicchiere d'acqua pieno per pochi secondi, non pesa niente, lo tengo per mezza giornata e il braccio soffre, la spalla anche. Bravissimo, questo è uno degli esempi più belli, più semplici e che fa capire a tutti di cosa stiamo parlando.